stabilimenti a Milano e a Roma, la società che ha comprato l'Eutelia, infatti ha annunciato un pesantissimo piano di ristrutturazione con mille esuberi. Elisabetta Santonda a Milano e poi Carmen Santoro da Roma. No, ecco, di quali quanti anni ha? 52. 52? Io sono di quelli che sono più fortunato degli altri perché non giravo molto ma c'ho fuori 1.500 euro solo di rimborsi. 1.500 euro? Più tre stipendi. E quanto è andato avanti? Vediamo. Noi siamo disposti a star qui, anche perché se usciamo di qua dobbiamo andare a casa. A giugno, Eutelia, società di telecomunicazioni quotata in borsa, vende lo stabilimento di Pregnana Milanese al gruppo Omega. Vende per farci rottamare, dicono dipendenti e sindacato. Eppure il lavoro c'è, le commesse ci sono. Qui facevamo ricerche e sviluppo, cioè era un posto ambito, si facevano dei bei lavori adesso. Avevano commesse dagli enti pubblici, dall'ottomatica, roba sicura. E adesso stanno incappucciati per protesta, a presidiare a turno il loro posto di lavoro. La nuova società aveva promesso ristrutturazione. Si sono presentati davanti al Ministero dello Sviluppo Economico dicendo che avevano linee di credito con banche per oltre 50 milioni di euro. Noi ci sembrava Babbo Natale, ma abbiamo imparato che Babbo Natale purtroppo non esiste. Si sono messi ad indagare e hanno scoperto che non erano soli. Altre aziende come loro, acquisite dalla stessa società, erano nelle stesse condizioni. Non sappiamo chi sono queste persone che stanno gestendo, se non che hanno un curriculum purtroppo di liquidatori fallimentari di altre società. E mostrano una serie di società che portano fino a Londra e che paiono loro scatole cinesi, fatte apposta per inghiottire il loro posto di lavoro. Abbiamo questa Marche Logistics, abbiamo questa Soul, Rescalibur, Ricamelot. E si domandano, com'è che licenziano mentre acquisiscono altre aziende e preparano un esposto alla magistratura? Anche la sede di Roma è presidiata, sì. Anche la vostra sede di Bari, anche Torino, si, si, sono tutte presidiate. Roma, Viale Liegi 44, in questo elegante palazzo c'è la sede della Omega, la società che ha comprato l'agile ramo informatico della Otelia per 96.000 euro. Impossibile qui parlare con qualcuno, attraversiamo la città. Al quartiere Tiburtino c'è l'altra sede, quella della Otelia, occupata come lo stabilimento di Milano. Lo conoscete il vostro proprietario, questa società la conoscete, chi sono? Basta girare su Google, su internet e praticamente cercare questa società, non si riesce a capire dietro chi c'è. Sì, a metà giugno siamo stati acquisiti da questo gruppo Omega, da allora non si sono visti, hanno progresso un piano industriale e non c'è. Siamo quelli che veniamo presi, probabilmente sono stati dati dei soldi a questi signori che fanno gli spazzini per chi si deve liberare di dipendenti, quindi di forza lavoro. Il sospetto di questi lavoratori è dunque che la Omega compri aziende per poi farle fallire. Ho comprato N società, tra cui una chiamata Fomidia, che conta circa 6.500 dipendenti, che sono nelle nostre stesse condizioni. Tutti impiegati, molti laureati. Il problema, anche per loro, è il posto a rischio e lo stipendio che non arriva da luglio. E se fuori si presidia, dentro si vive una strana quotidianità. È realmente molto difficile, perché è come se si dovesse gestire due famiglie. Una è la famiglia dei lavoratori, quelli che viviamo qui giornalmente, ripeto, per 8, 10, 12 ore, e poi, diciamo, andare a correre dalla famiglia personale e riuscire anche a gestire l'altra. È veramente, sta diventando un disastro sociale. Mentre in Europa l'Ox inizia a parlare di ripresa economica, gli ultimi dati relativi agli Stati Uniti evidenziano la debolezza del mercato del lavoro.